Presidente del Comitato Castagnaro, molto deluso della scarsissima partecipazione dei cittadini puteolani a questa manifestazione. Deluso, deluso tanto, un'assenza che non ci aspettavamo, un allontanamento da un senso civico e di responsabilità che fa male a Pozzuori. Io invito i puteolani oggi a risvegliarsi e ad unirsi a noi nella salvaguardia del loro territorio, della loro terra e della loro salute. Se c'è qualcuno che sta tentando di evitare questa partecipazione, loro devono vincere questa resistenza e venire ad ascoltare e a sposare le nostre ragioni, che sono le ragioni di Pozzuoli. Secondo lei perché questa scarsa partecipazione, se è dovuta a qualcosa o a qualcuno? Ci sono una serie di scelte personali e una serie di interessi. Pozzuoli è in un momento di campagna elettorale. Non vorrei che questo fenomeno stesse allontanando la gente dal problema per poi riunirsi in aggregazioni più politiche che civiche. Devono scendere dalle abitazioni, devono risolvere con noi il problema al di là dei partiti politici. Grazie a tutti.